Riccardo andiamo a chiudere Sì, io volevo fare un grandissimo in bocca al lupo agli speaker della rustica perché comunque anche per loro questa sera è l'esordio perciò un grossissimo bocca al lupo notizia di servizio questa qua, tra virgolette non si dorme perché non si dorme non si va a dormire questa sera NDR come si dice perciò no, è stata una bella trasmissione pregna come dice qualcuno esatto, esatto e sono contento di aver avuto parlo all'esordio esatto, per cui sta qua allora noi mettiamo una musica per chiudere poi la faccio sfumare e così chiudiamo e vanno in diretta loro è Working on the Dream del boss Bruce Prinsing che a me Riccardo c'è molto c'è molto lento salutiamo Marco Palumbo che magari non ci sta ascoltando essendo romanista però noi lo salutiamo comunque allora Riccardo salutiamo gli amici Bianco Celesti Luca Bafile Marco Vambretti e e che c'è l'Aquila a tutti alla prossima puntata esatto hasta luego I think of you and I'm working on a dream I'm working on a dream and the cards I've drawn so rough and dark I straighten the back end I'm working on a dream 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 The trouble can feel like it's here to stay I'm working on a dream I'm working on a dream I love will She's the trouble Grazie a tutti